L'idea della Regione è quella di partecipare da subito ai tavoli interistituzionali, perché anche se non c'è una competenza specifica da parte della Regione Puglia, c'è la volontà però di collaborare con gli altri enti, a cominciare dalla provincia, per mettere insieme un gruppo di lavoro che con le organizzazioni sindacali del territorio provinciale possano sviluppare un'iniziativa che possa somigliare ad un piano dei rifiuti prodotti in agricoltura. Quindi questa è una volontà e ci adopereremo affinché si attivi questo tavolo interistituzionale.